segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te coesione sociale abbiamo visto prima la manifestazione proprio a milano no di sabato era stato richiesto rispostarla così non è stato ci sono stati piccoli scontri però non le voglio chiedere di quello ma le voglio chiedere delle dichiarazioni del carabiniere che molto stanno alimentando diciamo le polemiche cosa avrebbe detto alessio abbiamo un virgolettato per non dire sciocchezze perché il senso era che lui non si sente rappresentato dal presidente mattarella una signora insomma quando fa la domanda alla gente cosa ha detto il vostro presidente con tutto il rispetto signora non è il mio presidente no e di che paese lo incalza la signora lui replica no io non l'ho votato non lo sento non lo riconosco non l'ho scelto io segnaliamo che anche volendo non avrebbe potuto votarlo però gabrielli di che stiamo a parte una una sommatoria di ignoranza istituzionale anche perché ricordo che il capo dello stato è anche capo delle forze armate quindi e i carabinieri sono un corpo che ha rango di forza armata quindi già per questo fatto dovremmo utilizzare la penna blu più volte sotto questa oltre alla direi al a queste affermazioni che non so nemmeno come commentare perché sono incommentabili anche se però purtroppo non sono isolate non ci devono stupire io non vorrei che si derubricasse come il comportamento isolato di un di un folle purtroppo non le cose non stanno così c'è un c'è un sentiment più più diffuso che io individuo in questo discredito progressivo delle istituzioni che colpisce purtroppo anche importanti gangli istituzionali qual è l'arma dei carabinieri ma non solo l'arma dei carabinieri non vorrei che adesso si crocifiggesse l'arma dei carabinieri perché purtroppo lei dice più diffuso di più diffuso di quanto si possa pensare dubito che molti si possano ritenere non coinvolti in questo tipo di presenze al loro interno e forse più che andare a a ricercare le singole situazioni dovremmo in qualche modo fare una riflessione più complessiva sullo stato di salute del rispetto delle istituzioni nel nostro paese e del fatto che al di là del degli scontri dei confronti delle diverse opinioni che sono il sale della democrazia forse abbiamo perduto nel tempo il rispetto delle istituzioni il fatto che la distruzione delle istituzioni che molto spesso avviene per ricercare un dividendo di consenso poi alla fine lascia solo macerie e queste macerie poi si traducono in comportamenti in affermazioni che ci stupiscono e giustamente legittimamente viva dio è giusto che ci stupiscano ma non vorrei che poi alla fin fine voltiamo pagina e ci distraiamo rispetto alla questione e la rubrichiamo come un'affermazione isolata di un personaggio un po così surreale no purtroppo il male è più diffuso il lo stato di salute della nostra democrazia da questo punto di vista non è dei migliori perché ripeto nel tempo negli ultimi tempi e non è questione di che coincide con questo governo questo è purtroppo un veniamo da lontano si diceva una volta ma veniamo da lontano con un approccio estremamente poco edificante senza comprendere e questo è sempre stato un mio cruccio che l'attacco alle istituzioni al di là di chi in quel momento le incarna e per fortuna dal 1946 le le incarnano attraverso consultazioni elettorali libere e democratiche quindi anche questo modo di demonizzare l'avversario politico nel momento in cui incarna una figura istituzionale credo che sia estremamente la figura istituzionale significa attaccare la democrazia significa attaccare il paese questo è il senso io trovo assolutamente legittimo che si dibatta e come dire si pongano sotto osservazione anche severa le politiche ma non le istituzioni perché le politiche per loro natura oggi ci sono domani non ci sono oggi c'è una maggioranza tutti insieme difendere dobbiamo difendere le istituzioni senta gabrielli le chiedo stamattina varrà le